Ma che buoni sono gli involtini di sfoglia con melanzane alla parmigiana, gustosi e saporiti e sono semplicissime e velocissime da preparare e piacciono a tutti. Lava le melanzane e tagliarle a fette sottili. Lascia grigliare le fette di melanzane da tutti i lati. Lava i pomodorini e tagliarle a fettine sottili. Ti occorre un ruoto di pasta sfoglia rettangolare da tagliare in 10 strisce. Sistema 2 fette di melanzane sul piano di lavoro. Su ogni fetta 3 fettine di pomodorini, un po' di sale e una fettina di scamorza o 8 formaggi o filande. Arrotola prima una fetta e poi l'altra. Prepararle tutte allo stesso modo e poi rivesti ogni involtino di melanzane con la striscia di pasta sfoglia che hai preparato, lasciandolo accavallare leggermente. Prepararle tutte allo stesso modo, sistemale poi in una teglia foderata con carta forno, spennellarle con il latte e lasciarle cuocere in forno. Eccoli qui, Giappondi, gustosi, filandi e semplicissimi da preparare.